Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale! Come promesso, nuovo video per tenervi compagnia e oggi vi mostro una parte dei miei profumi di ispirazione. Una parte dei miei profumi dupes chiaramente non sono tutti quelli che ho avuto negli anni perché alcuni li ho terminati e altri li ho regalati, ma comunque considerate che sto realizzando questo video con il voice over e quindi farò un sacco di papere. Allora, cominciamo con il brand Doral Collection e questo l'Everscent è il dupe di Gucci Bamboo. Poi abbiamo il Lensi che è il dupe di La Vie Belle di Lancome, sempre di Doral Collection. Poi abbiamo il Golden Blaze che è il dupe di Goldea di Bulgari. Questi, come vi ho già detto, sono profumi molto belli e il problema è la durata che è breve. Poi abbiamo lo Sweet Secrets che è il dupe di Prada Floral Candy, o Candy Floral, scusate. Poi abbiamo il Seventh Element che è il dupe di Coco Mademoiselle di Chanel, sempre di Doral Collection. Poi abbiamo, cambiamo brand, abbiamo Nazareno Gabrielli, I'm Not a Bad Girl che è il dupe di Good Girl di Carolina Herrera. Poi abbiamo del brand Omerta, questo fantastico profumo che è praticamente il dupe di Allure di Chanel, ve l'ho già mostrato. Poi abbiamo il Fabulous Flower che è il dupe di Eurospin e mi fa pensare molto a La Vie Belle and Rose e Flower Bomb di Victor Rolf, diciamo un mix di questi. Poi abbiamo il profumo Mia di Intimissimi che mi è stato regalato da Elisabetta, un bacione all'Elisabetta. Questo si avvicina tantissimo alla famiglia olfattiva di Dolce Gabbana Light Blue, ottimo, ottimo dupe. Poi abbiamo del brand Equivalenza che vi ho mostrato poco tempo fa, abbiamo diversi profumini. Allora, il primo è il numero 54 che è il dupe di Mon Guerlain di Guerlain. Poi abbiamo il 52 che è il dupe di Flower Bomb di Victor Rolf. Poi c'è il 95 che è il dupe di Inter D di Givenchy. Poi abbiamo il rosè che è il dupe di Montale, Roses Masks se non sbaglio. Poi abbiamo del brand Laura Rossi che ho preso presso MD, Lady Litia che mi ricorda tantissimo, Lady Million di Paco Rabanne. Poi c'è il Luxury Love Aroma presso Lidl che mi ricorda Olimpea di Paco Rabanne. Poi c'è, vabbè, Laura Jolie, questi li conoscete tutti, Laura Jolie che è il dupe di La Vie Belle. Poi c'è lo Chalot Blu che è il dupe di Cool Water di Davidoff. Poi c'è il Suddenly Madame Glamour che è il dupe di Coco Mademoiselle di Chanel. Poi c'è lo Chalot, Chalon, insomma adesso ragazzi non mi ricordo come si pronuncia, che è il dupe di J'adore di Dior, questo arancione, ottimo, ottimo dupe. Vabbè, questi ormai li conoscete tutti. Passiamo a Creation La Miss. Questo è il primo che si chiama Catsuit e non è una parolaccia, è il dupe di Classic di Jean-Paul Cotier. Poi c'è il Golden Wave, il dupe di Lady Bingo di Paco Rabanne, ottimi dupes questi di Creation La Miss. Poi c'è l'Espy che è il dupe di C di Giorgio Armani. Poi c'è il Dream Flare che è il dupe, secondo me, di Gravier di Chanel. Poi c'è questo che è The Real Time ed è praticamente il dupe di, si chiama Sexy Dentelle e il dupe di Valentino Rock'n'Rose. Poi c'è il Black Emotion che è sempre di Dior Collection e questo è il dupe di Black Opium. Poi c'è questo bellissimo Spartanian Lady che è il dupe di Olimpea di Paco Rabanne. Poi, adesso sì, ve li faccio un attimo rivedere, poi proseguiamo. Poi c'è l'Orchid Vanilla di Stradivarius che mi ricorda tantissimo il Girl of Now di Elisab. Poi passiamo ai profumi Verset o Verset, come dir si voglia, venduti presso farmacie e parafarmacie. Abbiamo Giana che è il dupe di Olimpea di Paco Rabanne. Vivian che è il dupe di Narciso di Narciso Rodriguez. Elle che è il dupe di Coco Mademoiselle di Chanel. Charm che è il dupe di Dior Addict. Glam che è il dupe di Carolina Herrera, 212 VIP. Poi abbiamo il Soft & Young, sempre di Verset, che è il dupe ottimo di Chance di Chanel o Tendre. Poi abbiamo un dupe della linea Essence che è un dupe di Dior Addict. Anche questa linea Essence è un'ottima linea di profumi di ispirazione. Poi abbiamo il Divina presso presso l'OVS. E questo è il dupe di Narciso Rodriguez Fleur Mask. Ottimo, ottimo dupe. Guardate, l'ho anche finito, però l'ho voluto conservare la boccetta. Poi abbiamo del brand Saphir Oni, che è il dupe di Tommy Figger. Adesso, ragazzi, non mi ricordo il nome, ma comunque l'ho sicuramente detto in un video. È un profumo che sta tanto di mimosa. Ottimo profumo. E guardate che boccetta gigante, spettacolare. Ok, ragazzi, allora io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho fatto un po', come dire, un po' di gaff con il voiceover. Non è semplice, perché praticamente non ho neanche preso fiato. Comunque, come sempre, vi auguro una splendida e radiosa giornata. Un bacione! Comunque, come sempre, vi auguro un po' di gaffine.